Siamo arrivati in un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. guarda ma che è stai a rubo che hai un gas? mamma, come mi fa? mamma, va da capo lo so, mi ha portato un amico al mostro già lo so sento le poche, ma ci ha visto che lei se ne è staggiatò un coppio e mezzo con uno senza ordine, non so quando sapere ma perché non puoi aprire un attimo? ma che aprire? ma perché hai visto qualcosa è storto? non so, io stavo insistendo ma perché non puoi aprire? io stai a prendere poche ma queste quante sono pagate le cliente? non sapete quando li stanno pagate? io lo so, ci sono già piaciute, ma queste sono piaciute 50 ma non vedi 50 io non capisco, chiamole poco a queste vieni, vieni ma è stranile? è russi che c'è? che cosa? ma quanto devi pagare da questa? 50, perché? com'è perché? non lo sai quanto devi prendere qua? eh, nessuno dà 100, scusa fammi vedere quanto è tarato ma è russi ma è 50 50 ecco tengo solo questo questa è l'ultima volta che ho visto che te ne caccia a casa una bella pagione a fare sorte guarda come l'ho visto ci siamo capiti? non ci siamo capiti non ci siamo capiti non farò L'abasci! 100 euro? Sì, caro. Sì, ma c'è il papà che va giù? No. La mamma è sotto là. Sono qui che guardi i guaglioni. La varietta. Mi raccomando. La guaglioni del nove, dai? Cattami la bocca. La unica. Miano le stai parà. Lì, a un po' di più. L'uomo ce è un po' di più. La guaglioni del nove, dai? Non, non, non. La guaglioni del nove, dai? Sì, la guaglia, devi andare in quel momento. È un po' di più. Ma sai le mie, non è una giù? no Buon appetito! Sperma! Sperma! Fanta, fanta! Il 25! Prima, 깜be! Fanta, spara! Fanta, spara! Come va, va, va! Mi hanno preso tutti i soldi, mi hanno preso questi nomi che hai il soldi, mi devi dare... Non lo so, non lo so, non so, non lo 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 so... Prolly, questo è un figlio di Messica. Perché mi fa? Che cosa? Puoi spiegare? Vieni, facciamo le disini. Siete? Siete a me. Vieni, facciamo le disini. Non si era un metro. Ma non hai un metro. Ma non hai un metro. Ma non hai un metro. Non sei un metro. Niente, non vuoi passare. Oggi è un anno di sette anni. Bravo, chi mi vedete? Ciao. Ciao. Ci sentite? Voglio un po' di compagnia. Buono. Sì. Prego. Posso uscire io? No, no, uscire tu. Come vedi? Com'è? Quanto? Cento. Ma questo è stato? Vabbè, perché non conviene? Sì, perché non conviene? Ok. Oh, Giulia. Facciate la risposta. Oh, oh. Ti va a divertire? Ti va a divertire un po'. Non è un po' di compagnia. Non è un po' di compagnia. Non è un po' di compagnia. Oggi ci sono. Chi soci! Anche sei? Non ho maicièso. Chi! Oh! Tutti... Tutti cosi hanno pianto? che sticcata nell'anno eh che sticcata hai capito? la catenella stava Stefano, ma io mi pensavo che ero un cliente la sua, la giro la butta è trasuta che cosa fa? che posso fare? su, tutti col tutto il passaggio capito che è? la c'è solo la tua peppa messicana stanno scassando le pazzes mi sono capito capite quelli grandi bastardi che tenevano a ricopo loro hanno fottuto loro fottevano e noi ci hanno mangiato i soldi mi faccio una cazza contene poco, non ci fassi pure il condone 300, 300, 400 500, 600 700 800, 900 1000, 1100 1200, 1300, 1400 1500, 1600 ma 1700 ma non mi hanno reputato con Gesù Cristo ma non mi hanno reputato però c'è mi è piaciuto la prima volta senza di me la voglio bene così così questo è buono per lui una serie vabbè non ci stai guarda che sta guarda che sta in tutti necom'è nasce ho fatto lo scopo aiuto 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 Sì. Oh my god! e lo gira? oh ma direi e che ti ha paurito? ma non ha paurito oh non è successo niente ho fatto la vita non capite? il capitano non ci siamo fatti perché siamo stati con noi ma non ci siamo stati ma niente non è perché non è una pazienza non ci siamo fatti non ci siamo fatti poi è morta il vino ma non ci siamo a parlare guardate e tu una mia ma non faccio un piccino e non mi dico due o tre e basta non ti metti a paura i miei ma ne si metto i miei ma non mi riempiono troppo glorioso ma fai le altre e non ti ho pregliermi capisco? voglio forza che ci rimanere è quindi vogliamo forza in lo spettale non lo do mettiamo il v energio ci raccogli oggi fa proprio non fa questo cosa? o zio penso proprio a me, non penso solo a chi ma io non ho queste cose a caccia fumo prima, aspetta un po' non c'è un rio, zio permettete o zio a me la devo ci bastare vediamo che voglio così con me e qua ma se ti bevo troppo questa, come me? c'è una mossa, non puoi guarderci fumo eh ma io non ho le cose 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 io non ho le cose ma io non ho le cose ma la porra che si è andata a buttare ma io non ho le cose non ho le cose ma guarda dove? ma bella compagni qua ma mezza l'inza soffa ma io vedo la faccio più, 2,50 euro ma io vedo e qua non ho le cose e qua non ho le cose come hai paura e qua? guardate la picca guardate la picca guardate la picca guardate la picca guardate l'esla ma non ho le cose L'acchmai a l'acchis. Perfetto. Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. e vai di guarda il gatto mi sei bizarro vai di guarda apposta che li vedete vai di guarda Voi giù No, 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 no. Lì, non lo so, non lo so, non lì, non lì. Che sei come la veda. Non è lì. E chica, landi l'elettorio? Questa è la ch tradeda. Oh, pranzi. Eh non stai a parlare, non ne so, non sta tirando passi? ciao ciao oh vabbè 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 buongiorno 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 ma che sta ma che continuo la situazione non sta capendo niente di più con il mio zappio che è successo? non sto buscando niente di più ci sono quelli che mi stanno facendo perdere solo tempo fanno la rapina a quelli qua dice che ha un figlio questo c'è un bellino dice che ha un figlio ma che stai dicendo? non lo so non sto capendo niente mi dà credere ma come hai fatto questo? ma che sa che ne hai tatuaggio stai a guagliuncello per rottarti giù stai lì fa queste cose e guagliuna si fottere qua ma si fanno queste cose aspetta un attimo totu vabbè che sarei tu hai scudato che l'hanno fatto con noi totu ti stai parlando ai figli ti stai parlando ai figli totu risponde ehi ma che cosa stai a fare totu fammi capire ma chi è il guagliuncello? lì per un'esercizio è buio non lo so 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 facci la pressa eh pressa vai tu vabbè all'altro che sto dicendo a bucci io zì io subito conosci perché si vede chi è ok non sta arrivando in un'altra parte non lo so non lo so non lo so